Nella cassaforte romana dell'ex tesoriere della Lega Belsito c'erano diversi documenti che ora sono in mano agli inquirenti. Li hanno trovati i carabinieri del Noe dopo aver chiesto l'autorizzazione alla Camera. Perquisendo la cassetta di sicurezza di Belsito hanno trovato una cartelletta intestata The Family. L'ipotesi è che i documenti siano relativi alle elargizioni ai familiari del leader del carroccio. A rafforzare la tesi anche alcune intercettazioni. Gli dici capo guarda che meglio sia ben chiaro se queste persone mettono mano ai conti del federale vedono quello che sono le spese di tua moglie, dei tuoi figli e a quel punto salta la Lega. Qui parla l'impiegata amministrativa leghista Nadia D'Agrada. Si rivolge a Belsito indagato per truffa, appropriazione in debita e riciclaggio. Lei è stata interrogata ieri dal PM Woodcock. Eccola al Tribunale di Milano. D'Agrada e Belsito parlerebbero appunto dei soldi usciti dalla Cassa della Lega per pagare i conti della famiglia Bossi e di Rosimauro, presidente del sindacato padano, molto vicino al Senatur, soprattutto dopo l'ictus che lo ha colpito nel 2004. Belsito in quei giorni aveva paura di essere defenestrato per via dello scandalo dei fondi elettorali spediti in Tanzania. Per evitarlo, D'Agrada gli suggerisce di ricordare a Bossi i costi del partito. Lui dice D'Agrada farà presto a sotto perché c'è l'ultima macchina da 50 mila euro del principe, Renzo Bossi. I soldi per il suo diploma, 670 mila euro per il 2011, senza giustificativi. Ci sono le automobili affittate per l'altro figlio, concepito con la prima moglie, Riccardo. C'è anche una Porsche, i costi per i suoi decreti ingiuntivi. Poi c'è la seconda moglie, Emanuela Marrone, baby pensionata che gestisce un istituto privato a Varese. Non sono bastati gli 800 mila euro di contributi statali, 300 più 500 ricevuti nel 2010 dalle casse della Lega. Sarebbero usciti per lei altri 300 mila euro che Belsito non sa come giustificare. Infine, come scrive oggi Libero, c'è anche il giallo di un appartamento milanese lasciato in eredità a Bossi, quale segretario della Lega Nord, da una militante, un lascito dunque al partito. La casa è stata venduta per 480 mila euro, soldi che non risulta siano mai entrati nelle casse della Lega. Grazie. Grazie.